Siamo nel comune di Cortona, precisamente nella frazione di Camuscia, per un intervento molto molto importante sulla reglia dei mulini. Un intervento da oltre 500 mila euro che è possibile realizzare grazie a un finanziamento che arriva dal Ministero alla Regione Toscana. La Regione Toscana decide di destinare 3 milioni e mezzo di euro ai sei consorsi toscani e quindi i 500 mila euro al Consorzio 2 Alto Valdarno. Ed ecco la decisione del Consorzio, di concerto con il Genio Civile Valdarno Superiore, di impiegare l'intera somma sulla reglia dei mulini di Cortona. È un intervento prima di pulizia della vegetazione e poi di rimozione dei sedimenti e di modellamento del canale per riportarlo alla sua capacità idraulica originaria. Qui siamo in una zona molto molto pianeggiante dove l'acqua corre lentamente e dove si ha il fenomeno della sedimentazione nell'alvio di questo canale. Fenomeno che è presente da tempo, da tempo gli amministratori e anche i cittadini ci sollecitano questo intervento, ma proprio per la complessità e l'importanza anche economica dell'intervento stesso non era pensabile di poterlo fare con le risorse del ruolo e quindi di inserirlo all'interno del pub. Quindi da tempo il Consorzio si è attivato facendo la prosettazione e ricercando finanziamenti alternativi ed ecco oggi possiamo dire che i finanziamenti sono arrivati e quindi riusciremo a fare anche questo intervento molto molto importante per la messa in sicurezza del territorio di Camuscia.